Lo faccio per voi persiste e tutti gli amici, sono stato un grande calciatore, però non me ne vado, ho avuto sfortuni, mi volevo in Vicenza, il penne mi stava conglia, sono di penne, però Manfrino è presidente per 18 milioni, 15 milioni voleva in Vicenza e allora non si è fatto l'affare, quindi io mi do un po' di palleggi buon assaggio della mia classe che potevo andare in Serie A, però mi piace ballare e sport, poi altre cose non mi piace. Scusi, mi devo allenare, ok. E allora sporti un paletto. No, metiamo la muscolata da volta.